Vi ringrazio per tutti questi complimenti, sicuramente noi siamo una squadra che vuole provare a giocare a calcio sempre, cerchiamo di farlo. Per tante partite in questo campionato siamo espressi in questo modo, non siamo riusciti a concretizzare tante situazioni che potevano darci qualche punto in più. Però sicuramente oggi abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra secondo me molto forte e che ha delle qualità importanti, quindi credo che vincere una partita così ci dà sicuramente grande gratificazione. Siete un po' la bestianera del Pescara, avevate vinto l'andata, avevate vinto le due gare della scorsa stagione, il Pescara porta bene il Cittadella. Sono quelle situazioni che capitano nel calcio, però l'importante è riuscire a interpretare bene le partite, al di là del Pescara, del Lecce, del Brescia. Noi vogliamo cercare di provare a giocarci le partite con tutti perché credo che abbiamo le qualità per poterlo fare. Ti faccio la stessa domanda del collega, ma cosa le ha fatto di male il Pescara che ogni volta le fa così brutte? No, niente, anzi Pescara è una squadra che mi è sempre stata simpatica, però chiaramente adesso alleno Cittadella e cerco di vincere le partite. Venturato, cosa ha visto lei dalla panchina in occasione del secondo gol del Cittadella? Perché ci sono state delle proteste dei giocatori del Pescara, abbiamo visto cadere a terra in area di rigore Ciofani, lei ha visto qualcosa? Io avevo lo sguardo sulla traiettoria della palla, non ho visto benissimo la situazione, però ho visto che c'è stato uno scontro, poi che è caduto per terra, quindi può anche esserci che ci fosse stato fallo. Io sinceramente ho fatto una scelta da un po' di tempo di non commentare più le decisioni degli arbitri, né a favore né a sfavore, accetto e vado avanti. L'ultima da parte mia, guardiamo la partita dal punto di vista tattico, lei ha scelto Siega dal primo minuto per sostituire lo squalificato Settembrini, dove è stato bravo il Cittadella secondo lei, dove siete stati bravi a limitare il Pescara? Noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco, cercando in fase difensiva di stare alti, di essere aggressivi, di cercare di recuperare la palla il prima possibile o riuscire a mantenere il possesso se non riuscivamo a verticalizzare per poi attaccare gli spazi, che è una qualità sul quale lavoriamo molto. Adesso in più abbiamo anche un giocatore come Moncini, che dentro l'area di rigore si fa trovare con continuità e quindi anche il cross, le finalizzazioni negli ultimi 15-20 metri diventano più importanti. Però credo che abbiamo cercato di fare quello che proviamo a fare tutte le settimane. Per chiudere avete battuto il Lecce, siete andati a vingere a Brescia e oggi avete battuto il Pescara. Questo cosa vuol dire? Comincia la parte più difficile del campionato, ci siamo dati un bel segnale dopo un momento difficile, però adesso veramente comincia la parte più difficile di questo campionato dove i punti conteranno tantissimo e quindi adesso gioiamo stasera e poi concentriamoci per Foggia.